Buongiorno alla segna stampa di oggi, primo ottobre. Le cose importanti riguarderanno la politica, il dibattito ieri di Renzi con Zagrebeschi alla 7, ma a me non me ne frega niente. Oggi vi voglio far vedere come sono fatti i giornali italiani. Questa mia idea nasce da quello che è successo su uno dei giornali italiani più importanti, che si chiama Il Sole 24 Ore. Ieri si sono riuniti nel Consiglio d'amministrazione, oggi vedo il resoconto di quello che è successo sul Corriere della Sera, che fino a prova contraria dovrebbe essere il giornale più autorevole della borghesia italiana. Dieci righe del Corriere della Sera, Sole 24 Ore, più ricavi digitali valuta l'aumento di capitale. Quindi il titolo della breve è che ci sono più ricavi digitali e che sta valutando l'aumento di capitale. Allora io mi chiedo, ma se vanno così bene gli aumenti i ricavi digitali, com'è possibile che questi facciano un aumento di capitale? Leggo il pezzo, che sono otto righe, non abbiate paura. Nel primo semestre dell'anno il gruppo Sole 24 Ore ha messo a segno ricavi consolidati pari a 150 milioni, meno 13,4 milioni rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La perdita dei ricavi è dovuta principalmente alla svalutazione delle controllate. L'amministratore delegato del Torchio, che si è insediato a giugno, potrà contare in compenso sul buon andamento del digitale con una crescita di 2,2 milioni di ricavi. Il CDA ha approvato le linee guida del piano industriale 2016-2020, che sarà presentata a ottobre. Quindi si procederà con un aumento di capitale e ristrutturazione del debito. 10 righe. Vabbè, uno dice che questo è quello che è successo, non capisce molto di economia, non mette in relazione il fatto che un aumento di capitale è se servono dei soldi in un'azienda e non perché ci sono stati meno ricavi. No, meno ricavi. Poi dopo vado sul Repubblica. Vado sul Repubblica, va bene? Pagina intera, non una breve di 10 righe, pagina intera. A titolo, dal sole al referendum, la lite boccia squinzi, spacca la confindustria. E poi leggo. Era la gallina delle uova... È un pezzo di 60 righe, non abbiate paura. 60 righe. Era la gallina delle uova d'oro, ora è diventata problema della confindustria. Il sole 24 ore va male, chiuderà anche quest'anno in rosso, portando in passivo la quotazione. Ieri il Consiglio di Amministrazione... Ieri il Consiglio di Amministrazione ha approvato alla semestrale 49,8 milioni di perdita netta e la disponibilità della stessa associazione dell'industriale a valutare positivamente un eventuale aumento di capitale. Ha perso 50 milioni in sei mesi, il sole 24 ore. Il Corriere della Sera non lo ha scritto. Non lo ha scritto. 50 milioni e dice che ha perso 13 milioni di ricavi. Ma chi se ne frega! A me non me ne fotte nulla del sole 24 ore di Napolitano che gli ha detto uuuh, 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 porro! Guarda che continua a fare il direttore io per quattro anni. Lui potrà pure continuare a fare il direttore per quattro anni. E io non me ne leggo al dito le cose. Perciò Napolitano, facciamo pace, non c'è problema. E a me la cosa che mi fa girare le balle è che i quotidiani italiani, il più importante quotidiano italiano, il Corriere della Sera, non scrive una notizia e ci prende per il culo! Cioè ragazzi, devo prendermi... Un giornale perde 50 milioni in sei mesi e questi non lo scrivono. Che tipo di credibilità può avere la pagina economica del Corriere della Sera se mi prende così per il culo e vi prende per il culo? E' vero che mi sono comprato anche Repubblica come tutti gli altri giornali e l'ho letto sugli altri giornali, ma questo è il modo di fare giornalismo italiano. E cioè che il principale giornale italiano, il Corriere della Sera, nelle sue pagine economiche, non scrive la notizia! E cioè che il Sole 24 Ore ha perso 50 milioni di euro! Che è una notizia fino a prova contraria che è clamorosa! Vabbè, chi se ne frega del Sole 24 Ore? Andiamo su cose più interessanti, magari dite voi sì, ci pensa Cairo, qui mi sembra che non ci pensa nessuno. Quello che mi diverte è invece, anzi mi diverte molto poco, invece che ieri è stato assolto Guido Bertolaso dalla accusa di aver contribuito al disastro del terremoto dell'Aquila. Pensate un po' voi, che cacchio di accusa! Beh, pensate che sia sulle prime pagine dei giornali? Voi pensate che sia sulle prime pagine dei giornali il fatto che Repubblica l'ha piazzato in otto righe pagina 22! 8 righe! Ci hanno fatto due palle così, con Bertolaso durante la campagna elettorale, indagato, il terremoto dell'Aquila, assolto! Assolto! Per non aver commesso il fatto, assolto! E nessuno oggi lo scrive sui giornali, mi viene il sangue al cervello! Lo scrive, anzi per essere franchi qualcuno sui giornali lo scrive, adesso ve li cito tutti perché me li sono andati a guardare. Lo scrive il Tempo, lo scrive il Messaggero, che in genere, però essendo giornali romano, forse la questione di Bertolaso, il giornale è libero. Il caso di Bertolaso se ne fottono tutti! Fottono tutti! Lo hanno distrutto, poi quando lo hanno assolto non lo citano. Oggi c'è Ferrara che fa un bel pezzo sul caso De Luca, dice che il caso De Luca anche lui è assolto nella stessa identica maniera, anche lui nessuno se ne è occupato, la Ilaria Capua che è stata assolta e si è dovuta scappare dall'Italia, Devo dire che Ferrara si dimentica Bertolaso nel suo pezzo, peccato perché valeva la pena citarlo. Molto bello Andrea Marcenaro invece che ricorda tutti quanti gli assolti, si parva a Lichet, l'unico che non si ricordano è il sottoscritto rispetto a tutti quanti gli assolti, ma chi se ne frega perché l'importante è ricordare che in questo paese si è condannati il primo giorno in cui si ha un avviso di garanzia. Molti giornali oggi parlano, ma questa cosa di Bertolaso che nessuno lo cita è una cosa che mi fa venire il sangue al cervello. Così come... Michele verrò ad Andrea, non ti preoccupare, a novembre. Andiamo avanti sulle grandi notizie della giornata. Sì, sono incazzato oggi, sono incazzato perché non posso trovarmi il Corriere della Sera che scrive le bugie, non mi scrive che ci sono 50 milioni di perdita per un giornale, l'economia del Corriere, come mi posso fidare? Sono arrabbiato perché Bertolaso viene assolto e sulle prime pagine dei giornali non c'è una riga nei giornaloni e questo qui lo hanno distrutto, distrutto. Questo mi fa arrabbiare e non c'entra solo Berlusconi, cari amici, perché De Luca pure era l'impresentabile per la signora Bindi, è stato assolto, era l'impresentabile. Vi ricordate che fecero la commissione antimafia e fu considerato impresentabile De Luca? Adesso viene assolto e poi oggi sui giornali parlano del Movimento 5 Stelle e dei suoi favolosi membri dell'assessorale, i nuovi assessori, chi se ne frega a me di quella roba lì, come sapete, mi interessa poco, niente. Volevo andare avanti su altre due cosette, beh, stupendo oggi Meotti sul foglio, che ci parla del nuovo leader canadese Trudeau, che viene considerato questo fenomeno, quello che fa yoga, eccetera, e gli dicono FOTTITI sul foglio, perché Trudeau è completamente la neolingua della fattoria degli animali, cioè stiamo parlando di Orwell, vuole fare questa legge, mi sembra che si chiami C16, ce lo ricorda Meotti, in cui ci sono due anni di galera se i canadesi sbagliano i pronomi, cioè non ci vuole il genere, si deve dire sindaca, si deve dire ci vogliono i terzi bagni, insomma, le cose che potete immaginare, ma diventano legge grazie a questo Trudeau, madonna mal ce ne incolse, e il professor Peterson dell'Università, non so di dove, della Canada, viene sostanzialmente linciato, perché dice, io chiamo le persone con i pronomi che voglio io e non con quelli che mi obbliga alla legge, guardatevelo il pezzo di Meotti se avete tempo, molto bello, chiuderei con, di Deutsche Bank, non ho ancora parlato, la banca tedesca, secondo me oggi quello che io scrivo sul giornale è il senso con cui leggere la questione della banca tedesca, Manacorda su Repubblica dice non dobbiamo gioire dei cosi altrui, stiamo d'accordo con Manacorda, tutti ne parlano, ma la vera cosa è che quella banca tedesca, cioè Deutsche Bank, nell'aprile del 2011 vendette 7 miliardi di titoli Stato italiani, BTP e BOT, perché si disse che non voleva avere titoli tossici e rischiosi nel suo portafoglio, dopo 5 anni scopriamo che a gennaio ci dicono che non riesce Deutsche Bank a pagare gli interessi sui suoi titoli subordinati, a luglio la Federal Reserve ci dice che è talmente di tanti titoli tossici che si tratta di un hedge fund il cui valore potrebbe far saltare l'intero sistema finanziario mondiale, poi si becca una multa per i suoi traffici da 14 miliardi in America, sostanzialmente Deutsche Bank vende il BTP nel 2011 in Italia, uccidendo l'Italia in quel periodo, ma è gonfia di 32 mila miliardi di derivati e 30 miliardi di derivati ancora in pancia, cioè molto più di quanto ha venduto d'Italia, di derivati e di prodotti tossici. Allora, quella vendita d'Italia fu fatta per pulire il bilancio o per farci un mazzo così? Ve lo dico io, per farci un mazzo così non c'è bisogno di fare il commercialista, hai ragione, non c'è bisogno di fare il commercialista per capire che quella mossa di Deutsche Bank fu una mossa avventata, quindi mi preoccupa caro Manacord e altri che fate sempre i professori, a me non voglio parlare male di Deutsche Bank, spero che non salti perché se salta una banca in Europa salta il sistema finanziario d'Europa e nessuno di noi deve goderci di questo, però forse qualcuno può ricordare che quelle vendite dei titoli di Stato italiani non erano fatti per pulire il bilancio di Deutsche Bank, ma erano fatte per qualche altro motivo, perché il bilancio di Deutsche Bank se l'avessero voluto pulire nel 2011 l'avrebbero pulito con i tossici, titoli tossici e i titoli derivati che aveva in pancia in gran quantità, non con i titoli di Stato italiani che col senno di poi hanno rappresentato un grande affare per lui. Galli della loggia oggi si esercita sulla destra e dice una cosa molto originale, Renzi è economicamente un uomo di destra e dunque questa destra non serve. Allora, Galli della loggia, fenomeno Galli della loggia, prima diceva che la destra faceva schifo, poi dice che la destra non serve perché Renzi è diventato di destra. Vi voglio dire una cosa, oggi ce l'ho un po' col Corriere, questi del Corriere veramente hanno questa puzzetta sotto al naso insopportabile, hanno una puzzetta sotto al naso perché fanno sempre le lezioncine e dicono la cultura di destra non c'è, si è visto per esempio quando un libro di destra come il mio, la disuguaglianza fa bene, si è visto che porte spalancate, Galli della loggia e i suoi hanno dato il Corriere. Sapete cosa gli hanno dato il Corriere e gli amici suoi a questa notizia? Zero! Tranne l'amico PG Battista, perché non gliene fotte nulla della cultura di destra? Perché loro non fanno parte della cultura di destra e per anni l'hanno demonizzata, poi ora si lamentano che la cultura di destra non esiste dopo che per anni gli hanno fatto un mazzo così, è una cosa fantastica, è come se a me mi menano dalla mattina alla sera e poi mi dicono, sai, ti ho menato dalla mattina alla sera, ma è possibile che c'è sempre quella faccia piena di schiaffi? E certo, mi è menato. Allora il Corriere della Sera che dice che non esiste una cultura di destra quando per anni l'ha negata, mi fa impazzire dalla ipocrisia del Corriere della Sera, se potete oggi evitatelo come l'AIDS. Ciao! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!